Benvenuti a tutti. Signor Presidente del Senato, Segretaria Generale, colleghe e colleghi, signori e signore. Ci troviamo oggi per la tradizionale cerimonia di scambio di auguri nel pieno di una fase cruciale per la definizione della manovra economica per il prossimo anno, che vede proprio il Senato al centro della scena. Siamo nei momenti decisivi, proprio in queste ore, di una sessione di bilancio segnata dal protagonismo del Governo e in quest'ultima fase dalla centralità dell'asse tra Roma e Bruxelles. In parte, almeno a discapito, degli spazi di discussione e intervento delle Camere. In questo contesto, contraddistinto anche dal peggioramento del quadro economico, sta prendendo corpo il passaggio politico più rilevante della maggioranza e del Governo fondato sull'intesa tra Movimento 5 Stelle e Lega. Che analisi le chiedo, Presidente, ritiene di fare e che scenario vede all'orizzonte per il nostro Paese? Mentre il Parlamento lavora, tornano a farsi sentire in queste settimane le piazze. Disegno anche molto diverso, da Roma a Torino, con un nuovo protagonismo della società civile e in particolare degli imprenditori. I temi ineludibili degli investimenti e delle infrastrutture animano il confronto e le contrapposizioni, con un equilibrio finora difficile da trovare. Sono scelte quelle sulla manovra e sulle grandi opere che incidono sulla vita degli italiani e anche, per il complesso iter della formazione della legge di bilancio in questi mesi, sullo stato dei rapporti tra Roma e Bruxelles. Un'Europa immersa in quella che potremmo chiamare stagione dell'incertezza. Con la inedita e confusa vicenda della Brexit, le forti tensioni sociali in Francia, l'avvio, in qualche modo, del dopo Merkel in Germania. Fino all'esperienza di governo italiana, per molti versi un unicum rispetto alla natura delle forze che la incarnano. I vecchi equilibri vengono messi in discussione, ma i nuovi non si scorgono, quando siamo ormai a pochi mesi dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. In considerazione anche delle recenti visite istituzionali all'estero, qual è la sua visione dello scenario continentale e del ruolo dell'Italia al suo interno? Dalle istituzioni passiamo alla società, quella società della cattiveria e del rancore, così la descrive il Censys nel suo ultimo rapporto, dove in molti guardano al sovrano autoritario e considerano i migranti come capro espiatorio. Un episodio come quello accaduto pochi giorni fa dalla nostra collega Giorgia Rombolà, suo malgrado aggredita dai passeggeri in metropolitana a Roma per aver protestato contro un uomo che picchiava una donna e la sua piccola figlia, presunte scippatrici, ci rende la misura del clima di tensione sociale, della voglia di fare giustizia da sé, della sfiducia crescente verso un sistema in grado di assicurare il rispetto delle leggi in maniera civile. E ci ripropone, penso, il tema del rispetto dei soggetti più vulnerabili, bambini e donne. Ci chiediamo quale responsabilità abbia e quale contributo possa dare la classe politica e anche in termini legislativi il Parlamento. A proposito di attività delle Camere, con scarsa eco mediatica, a dire il vero, stanno procedendo alcune rilevanti proposte di riforma costituzionale. Una a Montecitorio, in materia di iniziativa legislativa popolare, che punta all'introduzione del referendum propositivo, nella convinzione espressa dall'esecutivo che la democrazia rappresentativa non sia più sufficiente, va integrata dando la possibilità ai cittadini di incidere sulle decisioni pubbliche. L'altra proposta, in discussione qui in Senato, punta invece alla riduzione del numero dei parlamentari. E veniamo a noi, al nostro lavoro di giornalisti. Per tanti versi viviamo un periodo difficile, ne siamo consapevoli, ma da parte nostra non c'è nessun arroccamento. La rivoluzione digitale ci impone di cambiare. Lo abbiamo capito anche dai momenti di riflessione delle ultime settimane, qui in Senato e poi alla Camera. La sfida si può vincere solo puntando verso l'alto, praticando un giornalismo ancora più rigoroso, indipendente e coraggioso. Separato nettamente dalla comunicazione politica e dalla propaganda. Essere dentro ma fuori dal palazzo, come ci insegna il felice motto di una emittente a noi tutti cara come Radio Radicale. Resta da capire se il mondo dell'informazione debba stare sul mercato senza alcuna rete o sostegno, oppure se merita, come crediamo, una forma limpida e aggiornata di supporto pubblico, alla luce delle norme costituzionali che incarna, dall'articolo 21 fino al principio di pubblicità dei lavori parlamentari, valori sui quali si fonda l'associazione che ho l'onore di presiedere e che quest'anno celebra i suoi primi cento anni. Signor Presidente, ho parlato finora di politica, di Europa, di giornalismo. Tre mondi, cari a un giovane cronista, un appassionato europeista, un figlio dell'Italia migliore come Antonio Megalizzi. Ascoltarne i lavori in radio, leggere della sua vita, ci consegna una speranza e una fiducia intensi quanto il dolore per la sua morte. Sento forte la responsabilità di contribuire a dar corpo ai valori in cui credeva. Mi avvio alla conclusione, non prima di rivolgere un cordiale saluto al segretario generale dottoressa Elisabetta Serafin, al collegio dei questori, al consiglio di presidenza, ai vice segretari generali dottor Alfonso Sandomenico e dottor Federico Toniato, all'ufficio stampa, al personale del senato in tutte le sue componenti. Siamo convinti di poter proseguire il nostro lavoro in un clima di pieno rispetto e collaborazione, disponibili a dar vita a nuove iniziative condivise di studio e di approfondimento. La ringraziamo Presidente per questo momento di incontro con i giornalisti parlamentari. Esprimo a lei e a tutti i presenti i più cari auguri di un buon Natale e di un 2019 gratificante e fruttuoso. Grazie. Grazie.